Quindi con la Piro Cosa mi sa aspettare? No, no, siamo a posto Siamo a posto Intanto Francesco Foderà, Radio Alex Lo ricordo, siamo in diretta Non so che cosa capiscono quelli che sono in radio Che ci stanno seguendo Comunque, al limite che al primo canale Sentono l'ottorno italiano Insomma, cosa c'è quest'ora? Cosa c'è quest'ora su un altro canale della radio? Tu senti solo Radio Alex, ok? Va bene Allora Franco, dedicato a Medina? Contigo Apprendi Ciola Contigo A conoscere un mondo De ilusione Aprendi Que la semana tiene más De siete días A ser mayoras Tu presenza Aprendi 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 Tu li trovi questi... Era anche zoppo No, ha detto che il compositore è zoppo Cioè non so che cosa vuol dire Io dovevo dire le tue parole ancora